Siamo qui negli studi di Canale 21 con un altro giocatore storico del Napoli, Nicola Mora, che avrà la possibilità e l'opportunità, lo ringraziamo per firmare Napolino. Ecco qui, lo seguiamo durante la... È un onore e un piacere. Abbiamo visto che è una macchina azzurra e quindi ci sono tanti già giocatori. Mi accomodo vicino al cognato, è già stata firmata dal cognato Emanuele Calaio, quindi mi accingo alla firma vicino. Posso aggiungere un Forza Napoli perché questo non deve mai mancare. 3 è il numero di maglia, 3 sono gli scudetti e 33 sono gli anni che abbiamo aspettato. Speriamo di non aspettarne altrettanti, quindi sempre Forza Napoli. Grazie Nicola.